Da una parte una squadra che non ha mai vinto la Stanley Cup nella sua storia, dall'altra una che non la vince dal 1990, i Florida Panthers e gli Edmonton Oilers sono i qualificati alla Stanley Cup Final 2024 che andiamo dunque a presentare. Ai microfoni Matthew Torgardi in compagnia di... Ciao a tutti, sono Andrea, sono uno degli amministratori della pagina Face of Italia a cui vi invito di andare a seguire, anche Matteo è uno degli amministratori insieme all'altro Matteo che gestisce la pagina di media battuta e a Max. Quindi vi invito ad andare a seguire la pagina. Playoff delle NHL sono un delirio totale, la finale è il culmine di questo delirio. Dicevamo appunto nell'introduzione di questo video che appunto le qualificate sono Florida da una parte per quanto riguarda l'Est e Edmonton per quanto riguarda l'Ovest. Sono passate in sei partite effettivamente le qualificate alla Stanley Cup Final ma sono state Florida e Edmonton. Possiamo dire che è stato già un contropronostico? Ce lo si poteva aspettare? Forse no secondo te? Allora guarda, diciamo che sono abbastanza stupito nel senso che come sempre abbiamo sminchiato totalmente i pronostici diciamo perché non li abbiamo mai beccati in cui tutti i video passati li abbiamo praticamente toppati tutti alla grande. Però sì abbiamo beccato già il numero delle partite in cui le squadre sono passate e già secondo me questo è un bel traguardo. Sono passate Edmonton e Florida? È una sorpresa? Sì però non troppo. Nel senso che io mi aspettavo che passassero le due migliori squadre dell'NHL perché comunque New York ha chiuso come prima a dest ha vinto il President's Trophy e dall'altra parte a Dovest ha vinto Dallas praticamente la Conference e quindi io mi aspettavo un grande scontro tra le due migliori squadre per punti almeno dell'NHL in finale di Stanley Cup. Alla fine invece c'è stato un upset, non posso che essere contento perché quando succedono questi upset sono sempre molto contento. Che poi upset virgola perché comunque parliamo per quanto riguarda Est dei Florida Panthers una squadra che comunque è la seconda finale consecutiva quindi totalmente meritevole effettivamente di essere ancora lì una squadra da playoff in tutto e per tutto dall'altra abbiamo gli Oilers che possiamo dirlo subito hanno fugato almeno per quanto mi riguarda i dubbi difensivi. Noi ci eravamo lasciati nel video scorso dicendo attenzione perché Edmonton ha un portiere che non è un granché Stuart Skinner ha una difesa che sostanzialmente non difende e infatti Edmonton spesso per vincere le partite deve segnare 3, 4, 5 gol e invece noi abbiamo avuto anche a Ovest una serie tanto tanto equilibrata. È vero, è vero Edmonton sì, ci eravamo lasciati con questo dubbio sul portiere, su Skinner che tra l'altro è un ragazzo nato e cresciuto ad Edmonton quindi è un homeboy diciamo e quindi per un senso di appartenenza diciamo che Edmonton ha voluto puntare su di lui per questi playoff. E bisogna dire che dopo una run playoff un po' così così diciamo che nelle finali di conference si è riscattato perché ha fatto delle prestazioni veramente interessanti. E inoltre oltre allo splendido attacco di Edmonton che è cosa già ben nota hanno una percentuale di power play che è pazzesca, rasenta il 37% che per chi non lo sapesse una squadra buona di NHL si attesta intorno al 24-25%. Una volta su cinque tendenzialmente segni questi segnano quasi una volta ogni due più di una volta ogni tre che è qualcosa di allucinante. È vero che quello special team aiuta perché con Bush Arnick, David, Dreisaitl, Nuzet Coppings eccetera eccetera insomma è anche abbastanza facile però insomma abbiamo visto anche Dallas che è un altro power play suntuoso che ha fatto molta più fatica. Esatto sì, il power play diciamo di Edmonton è una delle armi... Su cui ha puntato soprattutto in questi playoff e Bush Arnick è un difensore pazzesco, io non ho mai visto un difensore segnare così tanto e poi ovviamente anche le tre teste da leone là davanti ovviamente hanno fatto la loro parte perché McDavid è leader in punti, ha fatto una valanga di assist nonostante abbia fatto solamente 5 gol. Invece Dreisaitl ha fatto 10 gol, è un grandissimo attaccante ma questo lo sappiamo benissimo. Hyman è il top scorer di tutti i playoff quindi oltre a Nugent Hopkins che anche lui è un altro giocatore che è molto valido soprattutto negli special team. Io mi aspettavo comunque un power play suntuoso perché lo sapevamo ma bisogna dire che oltre al power play anche la penalty kill unit di Edmonton ha fatto molto bene perché ha killato praticamente il 94% delle penalità e non me lo sarei mai aspettato soprattutto con Importa Skinner che comunque ha tenuto una media parata altissima perché ha tenuto tipo il 90-92%. Insomma un Edmonton quindi più sorprendente rispetto al previsto al netto che comunque era la prova del 9 questa per i canadesi perché Dallas era la migliore squadra ovest e sulla carta comunque era non favorita quasi di più da certi punti di vista. E invece chi è demeritato è proprio Dallas che va detto che ha rischiato di vincere gara 1 al supplementare e invece la persa non sfruttando quel power play di 4 minuti che quello è già un momento pivotal della serie. Ha rischiato di vincere una gara con una pata di stecca da parte del bastone di Ottiger in gara 4 che è il momento più bello di tutti i playoff della vita. Questo potete assolutamente confermarlo chiunque mai guardi questo video perché quella non abballucinante però poi Dallas è scemata nel lungo periodo e io mi aspettavo almeno la settima con Dallas sotto 3 a 2. Sì anch'io mi aspettavo la settima dopo che l'ho visti sotto 3 a 2 ho detto questi vanno alla settima e sì quella parata di Ottiger parata tra virgolette perché alla fine la parata con la stecca perché ha lanciato il bastone e gliel'ha salvata il bastone quella conta come parata. No no l'ha parata proprio la stecca di Ottiger con la stecca no no la stecca di Ottiger. La stecca di Ottiger sì 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 non è stato lui a pararla. Comunque sì in gara 1 hanno subito perso hanno perso dopo due overtime e quindi già in gara 1 c'è stato un upset abbastanza importante. E poi man mano nella serie a Dallas sono mancate un po' le sue stelle perché anche Jason Robertson che ha fatto dei playoff un po' così così ha fatto il Jason Robertson in una partita che ha fatto tripletta in gara 3 e poco altro direi. Quindi diciamo che la stella grande di Dallas è un po' mancata in questi playoff. Comunque insomma parliamo di squadre che hanno meritato di essere lì perché comunque il percorso era evidentemente fatto di ostacoli più o meno complicati. Certo dopo che Dallas aveva fatto fuori i campioni in carica 2023 cioè Las Vegas e i campioni in carica 2022 cioè Colorado insomma con questi Edmonton Oilers che sono una grandissima squadra ma con i buchi che sappiamo insomma ci si poteva aspettare che potessero passare. Non sono passati Edmonton affronterà i Florida Panthers che sono la seconda finale consecutiva dopo aver eliminato in cinque partite Tampa Bay nel derby, in sei partite Boston e in sei partite i New York Rangers che io li davo obiettivamente un po' più quotati. Quindi azzardo un'opinione che potrebbe essere impopolare e qua chiedo giustamente anche la tua opinione Andre che secondo me il momento pivotal della serie è stata quando Florida ha perso la gara 3 all'overtime perché lì si è visto come Florida ha avuto la forza di rimontare una gara che poteva già essere compromessa perché mi riferisco al terzo periodo di gara 3 dove i Panthers erano sotto 4 a 2. New York Rangers in porta aveva Shesty Horkin che comunque è un signor portiere il migliore insieme a Bob Robson secondo me di quest'era moderna devo essere onesto secondo la mia impopolare opinione e però lì Florida è riuscita a segnare due gol contro Shesty Horkin che è tantissima roba certo poi dopo ha perso ma secondo me aver rimontato e fatto due gol a Shesty Horkin ha dato secondo me la carica e quella mentalità giusta per Florida di fare 31 dopo aver fatto 30 secondo me. Sì guarda è stato sono stati è stata una serie un po' particolare contro i Rangers io me li aspettavo mi aspettavo che passassero i Rangers e poi alla fine non è stato così Florida sì secondo me in quella partita ha effettivamente capito che poteva battere i Rangers perché i Rangers sono arrivati ai playoff con un'aura da quasi imbattibili dopo aver fatto il record di punti della stagione di quest'anno e in quella gara 3 appunto hanno recuperato hanno recuperato due gol di svantaggio e l'hanno portata all'overtime poi hanno perso però comunque rimontare due gol segnare a Shesty Horkin che è un portiere veramente clamoroso e che ha dato ancora dimostrazione di essere probabilmente il portiere più forte della Lega insieme al suo collega che era dall'altra parte del ghiaccio e diciamo che sì con quella partita lì ha capito effettivamente che poteva arrivare in fondo poi gara 4 è stata vinta e gara 4 è stata vinta e poi lì è andato abbastanza in discesa ha detto comunque che anche per New York qualche stella è mancata perché Panarin non ha giocato molto bene ha fatto un solo gol nella serie tra l'altro ininfluente perché l'ha fatta praticamente in gara 6 a tempo quasi scaduto e poi anche Zibanejad non è che abbia fatto molto bene ha fatto un po' di assist però non ha inciso molto in attacco che poi è un po' la linea seguita da Mika Zibanejad nella stagione di quest'anno perché ha fatto una trentina di gol però diciamo che ci aveva abituato a diciamo ad un punteggio molto più molto più importante non me li aspettavo non me li aspettavo i Florida Panthers in finale per il secondo anno di fila però ci sono arrivati e adesso il pronostico è duro secondo me è molto interessante questo pronostico ma tra poco ci arriviamo è anche vero secondo me tornando sempre sulla serie tra Florida e New York Rangers che ci poteva aspettare in realtà che qualcuno sottoperformasse anche perché è stata presentata da tutti come la serie dei portieri cioè chiunque ha detto ai lavori statunitensi, canadesi, Sky Sport pure noi ma noi non siamo addetti ai lavori noi siamo tifosi semplicemente cioè l'abbiamo battezzata come la serie Bobrovski contro Shestyorkin cioè grandi portieri che possono fare la differenza con grandi percentuali di parate e pochissimi gol ed effettivamente così è stato cioè io non mi ricordo partite eccezion fatte probabilmente per uno o due sfide che sono finite con meno di due gol di scarto esatto cioè quella basta sì è andata un po' così nel senso che diciamo che quasi tutte le partite sono state tirate con non molti gol ma questo me lo potevo aspettare perché comunque importa i due veramente fenomeni del mestiere Shestyorkin è pazzesco nonostante abbia perso New York ha una percentuale di parate attorno al 93% ha preso veramente una valanga di tiri li ha parati praticamente tutti e dall'altra parte invece Bobrovski ha fatto la parte del Bobrovski che secondo me è uno dei portieri più forti che c'è al momento insieme al suo collega dall'altra parte e insieme ai due di Boston ci sono diciamo delle statistiche interessanti su Shestyorkin che nell'uno contro uno aveva una percentuale di parate di 44 su 45 prima delle gare decisive cioè qualcosa di veramente irreale nonostante queste cose c'è voluto il numero da cerco di Reinhardt che ha fatto due gol clamorosi di Lovation in tutta la serie c'è voluto Kachak che ha dispensato gioco in qualche maniera e la capacità di sfruttare gli episodi sì Kachak diciamo che più che segnare ha fatto più il playmaker ha fatto molti assist Kachak che si è comportato comunque bene invece Reinhardt è andato un po' a fase alterna ha fatto qualche gol importante tra cui un gol in power play che ha permesso di vincere di vincere una delle partite e comunque si è comportato più che bene e poi lui è un grandissimo specialista del power play perché comunque anche queste due squadre oltre ad Edmonton sono delle grandissime specialiste del power play più New York, più New York era un po' più specialista perché è una media attorno al 30% che comunque è tanta roba anche Florida ha un'ottima stat line con il power play e tra l'altro Reinhardt è quello che ha realizzato più gol in power play di tutta la stagione che ne ha realizzati tipo 27 quindi diciamo uno specialista delle operazioni diciamo così quindi arrivano di fatto in finale le due tra virgolette underdog ma rimane secondo me una finale di altissimo livello l'ho detto un po' nell'intro di questo video da una parte abbiamo la squadra che tenta di metterci sulla mappa dopo anni di rifondazione e dei lavori fatti molto molto bene perché negli ultimi tre anni parliamo di playoff per Florida e due finali con questa e dall'altra abbiamo Edmonton del giocatore più forte di quest'era moderna perché sfido chiunque a non dire che Condor McDavid è il più forte giocatore completo dell'era moderna di questo sport e quindi da una parte uno gli verrebbe da dire sì ok McDavid se la merita ma di là c'ha Florida e attenzione a Florida perché questo giro ci arrivano al completo l'anno scorso ci sono arrivati pieni zeppi di infortuni infatti la finale è durata 5 partite vittoria di Vegas 4 a 1 qua secondo me la serie sarà un po' più lunga e addentriamoci già quindi nel tema dei pronostici che è la cosa ovviamente che ci interessa di più anche perché sapremo perfettamente che ci ritroveremo dopo la finale a dire no abbiamo sbagliato ancora una volta palesemente no ma infatti sicuramente te lo stavo dicendo sicuramente faremo i pronostici e non li beccheremo per l'ennesima volta quindi è tutto da vedere è già tanto come abbiamo preso il numero delle partite e delle semifinali abbiamo detto in 6 partite incredibile ci abbiamo preso poi se becchavamo anche le squadre invocavamo il trionfo assoluto ecco ah ma quello sicuramente però adesso adesso le scommettere diciamo sulla finale di Stanley Cup è per uomini it's for men diciamo sarà una Stanley Cup Final votata all'attacco o evidentemente Edmonton continuerà a registrare così tanto bene la difesa insieme evidentemente a Florida che già di base è più forte dal punto di vista difensivo allora questa è una domanda interessante secondo me magari l'efficienza di Edmonton in power play calerà un filino perché Florida comunque oltre ad avere un attacco spaventoso con Barkov, Reinhardt, Tkachak e compagnia cantante Tarasenko comunque è un'ottima difesa Fosling e Eckblad sono degli ottimi difensori il portiere è uno dei portieri più forti quindi probabilmente perderà un po' di efficienza nel power play comunque sono convinto che magari attorno al 24-25% si attesterà Edmonton i suoi gol li farà comunque la cosa interessante dall'altra parte cioè ti rigiro la domanda nel senso Edmonton riuscirà a difendersi da questo attacco clamoroso di Florida e questa è la cosa interessante da vedere bisognerà vedere quante penalità riusciranno a evitare perché sta tutto lì perché abbiamo detto sono due squadre specializzate nel power play però appunto da una parte hai uno Skinner che è inferiore rispetto a Bobrovsky tecnicamente ma è condivato da una difesa che si è molto registrata in queste ultime partite della serie contro Dallas però di là hai una squadra abituata ai playoff che l'anno scorso ha perso male quest'anno ci riprova e ha un'altra carica e ripeto a sto giro i Panthers sono al completo quindi io lo dico il pronostico secondo me è sbilanciato leggermente tipo 51-49 perché ovviamente non è che possiamo dire 70-30 o 80-20 per i Panthers perché comunque hanno un core che può reggere le sfuriate di Edmonton che va a ondate certo se Edmonton trova l'ondata giusta che segna tre gol nel giro di dieci minuti come è capitato in gara 7 scusatemi in gara 6 contro Dallas Stars che hanno segnato due gol in dieci minuti nel primo periodo allora ok ma se contiene quelle ondate allora alla lunga distanza Florida è più favorita secondo me rispetto a Edmonton allora sono d'accordissimo perché Edmonton diciamo che per vincere deve diciamo che deve girare tutto bene perché se il power play funziona se quei tre davanti fanno fanno effettivamente la parte dei tre leoni e diciamo che Skinner performa abbastanza bene in porta Edmonton se la porta a casa sono abbastanza sicuro di questo detto che comunque dall'altra parte hanno un avversario molto molto tosto che l'anno scorso ha perso male perché appunto sono arrivati alla stella pieno di infortuni invece quest'anno sono completi e sono molto tosti perché là davanti l'attacco appunto ve l'ho detto è molto molto performante e la difesa comunque mantiene abbastanza bene quindi probabilmente Florida parte favorita ma appunto 51-49 non mi spingerei al di là di questo pronostico Possiamo azzardare sei partite? Io dico di sì stiamo a federe alle sei partite Sì 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 sicuramente in cinque non credo proprio perché l'attacco di Edmonton secondo me sarà un fattore anche in questa andrà alla settima la settima sarebbe il sogno di chiunque non ci arriveremo secondo me quindi segnatelo voi ascoltatori che mai guardate questo video ricordiamo che la Stanley Cup parte l'otto di questo mese ore otto ovviamente orario americano quindi da noi sarà la notte tra l'otto e il nove vedremo come si svilupperà questa edizione del 2024 noi comunque Andrea ci ritroveremo al termine di questa finale per fare il resoconto finale che ricordo in questa serie di video è una serie della pagina Instagram di Face of Italia che io e Andrea gestiamo insieme ad altri due ragazzi Matteo e Max che comunque ci seguono e ci danno comunque una grossa mano un grosso contributo salutiamo quindi nel concludere direi momento spam quindi per quanto mi riguarda pagina Instagram di ovviamente mia personale Face of Italia tutto in descrizione su Face of Italia peraltro in off season faremo un contenuto a tema ma niente spoiler vedrete ovviamente quando ovviamente finirà la Stanley Cup guitteci guitteci così saprete altro contenuto invece che arriverà per quanto riguarda il baseball che è lo sport americano principale qui sul mio canale il primo luglio nuovo appuntamento con il recap che ovviamente per un mese vi terrà ovviamente aggiornati è uscito ovviamente la puntata di giugno il giorno primo ci sarà poi lo possiamo già anticipare Andrea sulla tua pagina di MLB Italia la nostra grande diretta in pausa All Star Game e il 31 luglio slash primo agosto quando finisce la trade deadline sempre a tema baseball video a tema dedicato del mercato che è un altro dei must del mio canale per detto questo è tempo del tuo spam che è ovviamente giusto e meritato vado allora intanto saluto Manuela che è mia cugina ci segue da Edmonton grandissima tifosa degli Oilers intanto saluto doveroso diciamo che in queste settimane mi ha fatto da insider dall'altra parte dell'oceano abbiamo avuto delle fonti interne direttamente da Edmonton che torneranno tanto utili e sono stati utili anche per fare questo video soprattutto per la Stella Cup quindi un salutone poi momento spam allora io sono Andrea appunto sono uno dei quattro dei quattro amministratori della pagina Faceoff Italia a cui vi rimando quindi andate a seguirci perché quest'estate faremo un contenuto particolare quindi andate a seguirci vi terremo compagnia durante tutta l'estate durante tutta l'off season in HL parleremo di baseball parleremo anche di hockey insomma ci spazieremo un po' tra i vari sport americani facciamo un po' tutto e poi andate a seguire la mia pagina la mia pagina sul baseball anch'io ho una pagina di baseball si chiama MLB doppio trattino basso Italia e tra poco è quasi tempo di partire perché sarò alla London Series andrò a vedere i Philadelphia Phillies contro contro i New York i tuoi New York Mets è quello che resta dei New York Mets è quello che resta la vedo grigia è abbastanza ma ne parliamo alla diretta di luglio esatto esatto comunque vi dicevo andrò a Londra a seguire il weekend di baseball e tra l'altro sarò insieme a media battuta a Matteo e vi porteremo dei contenuti interessanti direttamente dalla perfida albione come dice che troverete anche nel video di luglio sul mio canale quindi qualcosina arriverà perché alla fine siamo tutti in una succursale della stessa cosa in qualche maniera comunque qualche contenuto anche sul canale di Matteo ci sarà sicuramente anche sulla pagina di Orso che ci segue e basta niente vi ringrazio e grazie a te Teo dell'invito grazie a te Andre quindi appuntamento già fissato segnatevi tutto ci rivediamo per quanto riguarda l'hockey dunque alla fine della Stanley Cup Final tra Florida e quindi voi che mai guarderete questo video fateci sapere nella sezione commenti sia su Instagram sia qui su YouTube il vostro pronostico perché ormai è tempo di stare le Cup Final il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo a un prossimo video